Anche qui ritorno su una cosa che ho già detto, ma che è molto importante, che è quella della dimensione di network, del volontariato civile, intellettuale, che ha messo a disposizione intelligenze, saperi, relazioni, senza cui Palazzo Ducale non sarebbe la cosa che è. E l'importanza è che tutti questi si sentano come tutti i cittadini genovesi a casa loro. Palazzo Ducale non è di chi ci lavora dentro, ma di tutti i cittadini genovesi, di chi porta la sua opera a realizzare i meccanismi di produzione culturale. Il secondo elemento è quello della cultura sostenibile. Io vengo regolarmente rimproverato, sono contento che il sindaco sia partito da questa cosa. Vengo regolarmente rimproverato perché faccio sempre ragionamenti sui numeri, cerco di raccontare i numeri, gli indicatori, il tema del bilancio. Io penso che il bilancio non è qualcosa d'altro, ma è qualcosa con cui bisogna fare i conti, perché nella responsabilità della città c'è di avere i bilanci in ordine. È, come dire, una scommessa che abbiamo cercato di fare, e in tanti ci hanno dato una mano, che è possibile fare cultura senza produrre spreco. E che anzi, in qualche misura, avendo sempre meno risorse, ma grazie alla dimensione delle relazioni, è possibile anche alimentare e aumentare il proprio programma. In questo cammino di fondazione, sempre alla ricerca del miglioramento, c'è sicuramente una novità estremamente importante, ma anche estremamente coraggiosa, che è l'incorporazione, quindi la fusione con la fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo. Ecco, è un atto importante di integrazione e di razionalizzazione, che porterà la regione Liguria a essere socio a tutti gli effetti della fondazione. Facciamo tre sperimentazioni. Una l'ha già citata al sindaco ed è forse la più difficile. Crincafè, uno spazio non sanitario, sociale, sui temi della malattia degenerativa. Ecco, però questo secondo me è un'innovazione importante, che nel palazzo della cultura, della città, ci sia uno spazio per riflettere e ragionare sulla malattia, coi malati, io lo trovo un salto di qualità civile. E secondo, anche questo era già accennato dal sindaco, questo progetto che insieme a tre assessorati del comune, al municipio e anche qui una rete di associazioni mettiamo in moto su San Pierdarena, questo progetto che già da oggi coinvolge tutte le scuole di San Pierdarena e che vorrebbe avere come fulcro il centro civico in un processo, come dire, di trasformazione e di forte legame con la creatività giovanile. Noi pensiamo anche con la Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale a realizzare iniziative sul territorio di una città vasta e articolata. Sono state realizzate iniziative a Ponte Decimo, si pensa di realizzare iniziative a San Pierdarena nel senso di seguire una strada di diffusione delle iniziative sul territorio di tutta Genova. Vi assicuro che per il numero che siamo è faticoso. È faticoso produrre quasi un'iniziativa al giorno, se non due. È faticoso rapportarsi con tanti soggetti. È faticoso costruire le partnership economiche. È qualcosa che se chi lavora qua dentro avesse una dimensione di coinvolgimenti in un progetto non si riuscirebbe a realizzare. Ecco, allora, come dire, mi sento di chiudere, come sapete, la retorica poco mi appartiene, ma c'è una squadra ducale che è un bene pubblico. Perché senza quella squadra, anche qui, palazzo ducale come oggi non ci sarebbe. Grazie di essere stati con noi.